Ciao, benvenuti a questo nuovo allenamento, ti faccio vedere subito gli esercizi che faremo tra poco. Allora, il primo è, tocco per terra facendo mentre faccio una squat sumo, quindi abbasso bene i glutei, appoggio le mani e poi allungo, hop, su, hop, su. Se ti viene difficile, fai solo questo movimento qua, senza toccare con le mani per terra, ok? Il secondo esercizio è, abbiamo finito lo squat sumo, vai giù con i glutei, solleva i polpaci e fai repeaters, piccole ripetizioni qua. Se sei principiante, stai solo ferma in questa posizione, ok? Poi vai a terra, mettiti nella posizione del side plank. Se sei principiante, fai semplicemente così, solleva il ginocchio e il bacino e rimani in questa posizione. Se invece sei già allenata, hop, vai, hop, vai, solleva così anche la gamba. Fai questo da un lato, poi ti giri, fai questo dall'altra parte e saranno i nostri primi quattro esercizi. Sei pronta? Yes! E su, inspira, espira, vai, e su bene, espira, bravissima, vai su, rimani là, allungo bene verso l'alto, tira così da un lato, dentro l'addome, cambio dall'altra parte, senti allungare braccio fianchi tutto. Apre, muove le spalle e aprimi subito, un meraviglioso sorriso. E adesso le gambe, vai, uno, due, uno, due, hop, 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 hop. Ancora vai, quattro e tre, bravissima, due, hop, ok, alterniamo così, oh, uno, due, uno, due, vai, hop, 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 hop. Fai un movimento ampio, vai, 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 ancora, quattro, tre, due, giri il braccio grande, gira, 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 gira. Mantieni questo sorriso meraviglioso, vai, uno, due, uno, due, vai, 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 insieme. E Eone, perché devo sorridere tutto il tempo? Perché devi mandare al tuo cervello l'informazione che allenarsi è una bella cosa, che stai bene, che sei felice quando ti alleni. Così il tuo cervello dirà, wow, questa è una bella cosa, bisogna ripeterla. E così avrai voglia di allenarti più spesso, quindi sorridi. Quattro, vai, tre, lo stesso effetto del pane Nutella, hai presente? Ok, cambio, piego qua così, piego, 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 vai. Uno, due, uno, due, ancora, hop, 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 hop. Vai, un, due, bravissima, chiudi i gomiti, chiudi, 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 vai. Gomiti alti, col sorriso, vai, ancora. Un, due, un, due, vai, vai, vai. Alterniamo, hop, 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 hop. Uno, due, uno, ancora, vai. Hop, vai, 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 vai. Quattro, tre, due, piego le gambe indietro, vai. Taloni ai glutei. E, e, uno, due, uno. Così, ancora, vai, 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 hop, hop, hop. Stessa gamba, rimani. E, 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 le mani su, 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 ancora. Quattro, vai, tre, bravissima. Due, cambio. Lato, uno, due, un, due, vai, vai, vai. Bravissima, ancora. Quattro, tre, vai, due. Muy bien, ok. Sul ginocchio, su, 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 su. Eh, bravissima. Comincia a venire caldo. Vai, vai, vai. Doppio, guarda. Su, e, su, 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 su. Bravissima, ancora. Hop. Hop, 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 hop avesse un bel sacco davanti, potesse colpire per sfogare bene tutte le tensioni, che dici? 3, 2, stop, rimani qua e fai una corsa sul posto adesso, vai, muovi bene braccia, posizione delle gambe come se tu dovesse scattare in una corsa, vai, 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 stiamo preparando il corpo, ok, gira su, su il sacco, il sacco, vai, hop, 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 ancora 4 e 3, vai, 2, hop, ok, tempo per la corsetta non c'è più, finito, oh my god, vedi quello che io dico quando siamo insieme, il tempo vola, vai, su e giù così, basso i glutei, forza, hop, e, hop, vai, hop, e, hop, perfetto, ora vai giù, solleva i talloni se riesci, rimani in questa posizione qua e fai solo piccolo, eh, il peso del corpo sui glutei, non caricare il peso del corpo sulle ginocchia, eh, lo so, ti vieni da cadere indietro, non fare questa faccia brutta, vai, perfetto, bisogna trovare una posizione un po' di equilibrio, eh, ok, ready per il side plank così, vai, solleva la gamba, su, 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 ricordati che l'altra è piegata, eh, fai la brava, e se sei principianti stai semplicemente così, non è necessario andare lassù, va bene, ready, quindi piego quella dietro, allungo quella davanti, posizione del side plank, vai, respira, respira, che magia, vai, respira, brava, eh, primo giro se fuè, velocissimo, io sto morendo di caldo, immagino anche tu, vai, tocca per terra, abbassa bene i glutei, perché vogliamo prendere proprio glutei, interno coscia, tutta la gamba con questo movimento, le cosce, ok, meraviglia, side plank, ready, no side plank, madonna, vai, solleva il movimento, trova la posizione, trova la posizione, e fai piscini, respira, movimento qua, eh, solo bacino si muove, solo il sedere, wow, com'è, beautiful, it's beautiful, vai, gamba piegata dietro, l'altra bella tesa, posizione del side plank, tira sul sedere, e vai, su e giù, respira, piedi rilassato, non è teso, sguardo in avanti, che bello, eh, è una fatica bella questa, che ci fa stare bene, side plank, piego, sollevo, e via, vai, su e giù, vai, piedi rilassato, punta del piede, punta, in avanti, vai, si sentono le gambe, vero, eh, che bello, potrai usare le minigone, eh, pantaloncini, jeans, scorti, che bello, vai, tocca per terra, abbassa il sedere, yes, stai andando alla grande, vai, posizione, abbassa il sedere, sollevi il tallone, e muovi il colletto, vai, così, in più sorridi, eh, ti chiedo troppo, dici, vai, respira, la buona notizia è che questo primo giro qua di esercizi è praticamente già andato, tira sui glutei, mettiti in una bella postura, respira, vai, stai respirando, eh, ossigeno, ossigeno è tutto, qui il timer mi dice che questo è l'ultimo, da questo l'altro, eh, poi cambieremo gli esercizi, respira, vai, forza, tiri sui glutei, vai, bravissima, ah, yes, magari non avevi tanta voglia all'inizio, poi hai detto, mi allieno lo stesso, e poi è andata alla grande, raccontami, com'è andata, allunga bene le braccia, respira, ah, molto bene, vai su, nella posizione del cane a faccia in giù, piedi a terra, vai, palmo delle mani e talloni a terra, respira, spinge il petto verso il basso, vai respirando, bravissima, piega le ginocchia, cammina con le mani verso i piedi, lascia giù le mani, adesso allunga bene le gambe, vai, mani a terra, testa rilassata, bravissima, piega le ginocchia, srotolando il tronco torna su piano, piano e piano, come stai? Bene, vero? E lo sto, allunghiamo quadricipiti, porta talloni ai glutei, apre il petto, bravissima, cambiamo la gamba, respira, molto bene, ti ricordo che puoi fare anche più stretching dopo che hai finito per allungare bene la schiena, ok? Adesso sollevi il braccio così, allunga la laterale, ok, cambia, torna su, apre, muove le spalle, inspira, lascia cadere, in, vai, bravissima, allunghiamo anche qua così, sguardo laterale, ginocchia rilassata, cambio, vai dall'altra parte, senti allungare i dorsali, va bene? Spalle e dorsali, ok, appoggio la mano, sguardo a terra, sei grande, anche oggi è andata, yes, cambio, sguardo a terra, bravissima, ok, rilassa le spalle, ancora una volta, inspira, cambio dall'altra parte, vai, su, in, espira, vai su, e espira, vai su, ultima, vai su, avvicina braccio e gambe, fai un bel inchino in avanti, grazie mille, sei una meraviglia, yes!